Il ministero pastorale come arcivesco metropolita di questa bellissima, antica, nobile, storica di Ocesi di Ancona Osimo. Questa piazza è così bella, è l'immagine che siamo tutti cittadini e come cittadini siamo chiamati a costruire il bene comune. E davanti a questa piazza, a questo sagrato, poi c'è la bellissima e storica, architettonica chiesa di Basilica di San Giliaco, questo luogo di fede. In chiesa siamo figli di Dio e siamo fratelli chiamati a costruire la civiltà dell'amore. Allora in chiesa civiltà dell'amore, fuori bene comune, camminiamo insieme perché queste nostre città siano belle, abitabili, per un nuovo umanesimo che costruisce ponti, anche se si vede dal mare e costruisce un nuovo umanesimo.